Allora, è stata sicuramente un'occasione molto utile perché ha concentrato in poco tempo numerose esperienze e quindi ci ha trasferito qualcosa che avrebbe richiesto molto più tempo nella vita di tutti i giorni per confrontarci in merito a questo. Quindi molto positivo sotto questo aspetto. Sicuramente ho imparato il fatto che bisogna trasmettere più emozioni oltre che nozioni, strategie, coinvolgimento. Cioè la prima testimonianza di ciò che vuoi fare con il tuo gruppo è che questo capisca l'emozione con la quale tu ti muovi e questo appunto infonde a loro, a mio avviso, un importante stimolo per raggiungere gli obiettivi.